Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Bentornati anche oggi, una settimana intensa di eventi e soprattutto un weekend importantissimo perché Castione della Presolana e Clusone saranno le località che sono state scelte proprio per la Coppa del Mondo di SciAlpinismo. La SciAlp 3 Memorial Angelo Castelletti che appunto dal venerdì 1 di marzo a domenica 3 di marzo verrà disputata proprio in Presolana. Quindi i campioni davvero di livello mondiale e internazionale verranno quindi nelle nostre località e potremo quindi vederli, gareggiare con gli sci alpinismo e potremo anche divertirci con loro in alcune cene organizzate. Venerdì 1 marzo quindi inizierà la sfilata alle ore 18 da Piazza Manzù a Clusone e proseguirà poi con la cena con gli atleti che è possibile fare presso una tenso struttura appositamente realizzata seguita poi da una serie di spettacoli tra cui anche spettacoli di slackline. Ci saranno infatti i campioni del mondo in carica che si esibiranno sulla fune, quindi su questa fettuccia e cammineranno facendo diverse esibizioni. Sabato 2 marzo iniziano le competizioni alle ore 19 in località Donico e quindi ancora il pranzo e la cena si potranno poi passare con gli atleti con festa, birra e musica e divertimento. Ancora dello sport quindi per questo weekend invece ci saranno delle ciaspolate organizzate in particolare da Son Gavazzo si parte con il bus navetta fino al Monte Pora il 1 di marzo, venerdì 1 marzo alle ore 18 e 30, quindi poi si potrà salire al Monte Pora con le ciaspole o gli sci alpinismo. Il 2 marzo invece a Colere sempre in notturna una ciaspolata ai piedi della Presolana mentre il 3 marzo domenica mattina a Valbondione dalle 9.45 si parte verso l'osservatorio florofaunistico di Maslana dove si potranno poi vedere gli stambecchi e proiezioni appunto dedicate alla flora e alla fauna locale. Un'altra serata dedicata allo sport invece sarà il 28 febbraio a Villa di Serio. In serata comincia una serie di incontri dedicati a viaggi esportivi. L'incontro si chiama Terre e Popoli del Mondo in Algeria e Europa e si racconterà di alcune gite fatte nel deserto del Sahara e lungo la pista ciclabile del Danubio, tutte in mountain bike, quindi in bicicletta. Domenica 3 marzo invece vi consigliamo una visita all'Ecomuseo delle Miniere di Gorno e al sito minerario Costa Iels. Il ritrovo è alle ore 14, proprio dove c'è il piazzale dell'Ecomuseo, per poi salire all'interno della miniera. Quindi vi ricordiamo che la temperatura è costante sempre a 10 gradi all'interno della miniera, quindi è visitabile con qualsiasi condizione atmosferica, ovviamente coprendosi con giacche e con un abbigliamento adeguato. Per i bambini invece 5 marzo ad Alzano Lombardo consigliamo una serie di incontri pomeriggi favolosi. Quindi cominciano una serie di letture che verranno animate dai giovani della Croce Rossa e dai libri animati e quindi racconteranno delle storie ai bambini alle 16.30, seguendoli poi da attività creative. Quindi questi sono i nostri consigli per il weekend. Vi ricordiamo che potete sempre visitare il nostro sito internet, valseriana.eu per vedere tutti gli altri appuntamenti. Buona settimana a tutti!